Ragazzuoli benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Io ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite è possibile farlo e basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sull'etangorina in base a testa supporto un creatore ed inserire il mio creator code ovvero Croatomist. Accettare e il gioco ragazzi sarà fatto. Inoltre vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se ovviamente il video vi è piaciuto e per supportarmi. Detto questo ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e godetevi questo fantastico video. Sono morta. Non è vero, sono fiducioso. Oh mio Dio! Aiuto, Vezza! Vabbè. Vezza! Arrivo. Oggi sono a piccola, una picconata. Fai! Perché non l'ho... Ah, ho sentito una mica la paura! Perché questo si chiama Atlantis Bombo? Qua vogliono le mie ghiabbe, ma... Vabbè sono a posta, tranquillo. Vabbè sono a posta, tranquillo. Vabbè sono a posta, tranquillo. Ho preso un nevaso. Sì, non morire. Porca puttana! Bianco! Lupo, bianco! Hai delle bende per Gepesto. Per Gepesto, guarda la mia vita! No! Tieni! Magari devi andare in D2. Tatti pulli? Officio, chi non ne hai? Tieni! Gente qua, eh! Tieni! 200! 64 bianco! Ma non fai nulla questa cosa! Sì! 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 Però l'ho fatto spaventare le partite! Sì! L'ho fatto veramente! Ah, capito! Ho brinato! Ho brinato! Ma è pieno, eh! Lo sento! Porco due! Odiaz! Mi sto cagando sotto! Eh, sbagli di Gepesto, Gidio! Tu sei che l'ha aperto? Sì! 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 Che cazzo fanno quelli? Erano tutti fermi! Comunque mi hai inculato due kill, porca troia! Potrei quasi negare! No! 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 Potrei quasi impazzire! Ho fatto 70-70! Sembrava allenarotto! Martina, dove sei? Vieni qua, che c'è un po' di gentaglia! Ah! Ma l'ha sparata da qua! Che cazzo spara questo! Che lo sento ma non lo vedo! Ah, ecco! Bello, 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 bello! L2, L2, L2! L2 con l'arma! Martina, L2 con l'arma non si può fare! Certo che lo puoi fare! Ma che stai dicendo? Ah, qui cazzo! Di certo! Martina, mi stanno massacrando il culo! modo di impulso io un ultimo quello lì fa oh da questo i need your aid i need your orco zio ci sono tre cecchini se vuoi ce n'è uno che sta diminuendo anche lì ora è sceso ora è lì ah è il bar è quello che sta diminuendo venti più venti per la mira per venti di nuovo venti bravo vado one shot quanti cazzo tu martini che vedi tu amico è un animale io è perché se no non sa orco due team qua tre team mi sa oddio è messo è messo ma porca venti a capiccia bravo non sono buco lo giuro eh no no ok andiamo cin cin è tuo è morto sono morti tutti mattina siamo a 26 kill oh siamo a 26 kill dai buon home game bello cin cin plin plin ora non lo dici più vado di impulso dove vado di impulso vieni oh dove cazzo vai martina io ho preso il launchpad mamma mia ragazzi 200 kill l'ho preso te lo giuro che l'ho preso tranquillo tranquillo non lo so sono fatta è un problema li ho ammazzo li ho ammazzo che tanto sto facendo tutto da solo dall'inizio però oh è one shot one shot ci hanno caduto uno con le buzzerenti dove stanno gli altri ne manca uno le regole del game 52 no il squad è mondiale John McGuck eeeh pitit i due non ho un'idea di quali siete i quadri credo che erano 45 50 no 50 tog thank you fanatic ho le ho le chug splash questo era un bellissimo fanatic take eeeh eh ok ok mi sa che il bar è tu no ho fatto 500 partì ho fatto 600 oh io la mia metà dell'opera l'ho fatta dai e pure io guarda eh è morto vai hai ipad vieni altro robot altri te lo fa mortina guardali 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 io sono qua sopra qua c'è due sono la merda mi curo bianco è stato uno era anche quello lì oh poi non c'è dovrei questo a mister coraggio come si attiva come giampa mister coraggio dov'è era buon hit ok però l'altro ve lo devi lasciare a me perché l'ho messo one me lo devi mi sta piacendo la tua mila DR la mia perché che vuol dire è che ho messo la tua e ci sto prendendo bene allora tu ti fai quello lì faccio quello a destra ci stai vai 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 ma io a parte l'ho già ammazzato ce l'ho ammazzato non è l'ultimo no ok sei seri ok siamo contro l'ultimo ecco eccolo eccolo lo trolliamo in qualche modo bene dai come te pare fammi fare la slufero sennò qua faccia faccia ho dicendo ve kill vediamo com'è è bianco è bianco è bianco bianco 36 36 gg man non resta Grazie.